Perché dovessi scegliere la clinique? Lo staff della clinique non ti lascia mai sola, è sempre con te, reperibile 24 ore su 24, prima, durante e dopo l'intervento. L'advisor è la tua consulente personale, ti starà vicino in ogni momento del tuo percorso bellezza, per te comunque è la prima volta, affidati ad un'amica. Anche dopo l'intervento il tuo chirurgo è sempre a tua disposizione. Il mio compito è semplificare il tuo percorso di bellezza, prima, durante e dopo l'intervento. La beauty advisor è la persona che si occupa di seguire il cliente dal momento in cui entra nella nostra unità locale. Lo seguiamo durante la visita medica con il chirurgo e ci occupiamo di tutte quelle che sono le procedure amministrative e burocratiche che si svolgeranno dal momento della visita medica alla prenotazione dell'intervento. Ti verrà rilasciata una lista di numeri telefonici che puoi contattare per qualsiasi esigenza. Affidati alla clinique, affidati a persone come me che hanno la competenza per seguirti e consigliarti nel tuo percorso di bellezza. Per una consultazione gratuita chiama all'800 864 868.